Ciao ragazzi, oggi proviamo la Giannis Immortality Suola in gomma, tommai e mesh leggerissima Adesso proviamo a infilarla e vediamo com'è Io con la pianta larga l'ingresso è un pochino stretto Molto stretta all'altezza del malleolo Mi dà un po' fastidio la parte che gira intorno al malleolo Un po' dura, però la scarpa in sé è leggerissima e molto morbida L'ammortizzazione è curva per agevolare il passo Molto fluido, un po' dura Ma per uno scarpa da 80 euro mi aspettavo molto peggio